In Italia oltre 60.000 persone vengono colpite ogni anno da arresto cardiaco. Spesso i medici intervengono troppo tardi. Basterebbe praticare una semplice manovra cardiopolmonare prima dell'arrivo dell'ambulanza per aumentare di due o tre volte la sopravvivenza. Nel 70% dei casi l'arresto cardiaco avviene in presenza di testimoni, ma la maggior parte dei cittadini italiani non sa come fare la rianimazione. Ecco perché la Società Italiana di Medicina d'Emergenza da mesi si sta battendo per inserire nelle scuole la materia di primo soccorso. Insegnare alla popolazione le manovre di primo intervento può contribuire a salvare migliaia di vite umane. La proposta è approdata alla Camera, ora attende il via libera del Senato e poi, si spera, sarà legge. Tema discusso durante il simposio nazionale Vivo Emergency Medicine che ha richiamato in città numerosi esperti della cardiochirurgia, i quali si sono confrontati anche sulle nuove strategie di intervento e sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari. È importante che i pazienti, oltre a prendere le medicine che vengono prescritte in ospedale, che alcune volte sono abbondanti, è importante associare i cambiamenti dello stile di vita, quindi la dieta, smettere di fumare, il controllo della pressione arteriosa, il controllo del colesterolo e soprattutto dell'attività fisica. Se l'attività fisica si facesse in modo adeguato e costante, basterebbe da sola a ridurre il rischio cardiovascolare tanto quanto lo riduce l'aspirina, cioè dal 25 al 30%.